Via! La famiglia di Francesca Ferragni ha trascorso le festività natalizie in un'atmosfera magica sulla neve. Insieme al piccolo Edoardo e alla loro affettuosa cagnolina Gabriella, hanno goduto di giornate all'insegna della gioia e della complicità. Oltre alle classiche escursioni sulla neve, la famiglia si è divertita a giocare con entusiasmo, dedicandosi anche ai giochi pensati appositamente per il piccolo Edoardo. La neve ha regalato loro un ambiente incantato, amplificando il calore familiare delle festività. Tra risate giochi e paesaggi innevati, Francesca Ferragni e la sua famiglia hanno vissuto momenti preziosi e indimenticabili, creando ricordi che rimarranno impressi nel loro cuore. Un Natale all'insegna della natura, della famiglia e della magia che solo la neve ha Grazie. 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 Grazie.